Ciao a tutti e ben ritrovati! Siamo su Itroves Monday, un indie di trash che ho trovato in giro. Come sempre avevo promesso di portare gli indie trash. E benissimo, premi ESC per cominciare. Spero non esca dal gioco perché non sia un troll. Era un troll forse? Ok. A volte penso che, a volte sento come se tutta la mia vita qui sono stato sveglio che cambierà qualcosa. Google Translate è meglio di me, però capiscitela. Oh, benissimo. Fai more... Ok. Cinque passi in più e sarai libero. Ah, quanto vedo siamo una specie di... C'ha trulette? Subito c'ha trulette. Ah, quanto pare siamo dei lavoratori d'ufficio. Spacchiamo un po'... Ah, non è tipo VR. Ok. Ehi Bob, sei tu? Sei ancora intrappolato in quel posto? Di che stai parlando? Di che stai parlando? Sono... Ah. Hai ancora un regalo? Vediamo un po'. Forse potremmo... Forse potremmo prendere un... Ma sì, dai. Ok. Forresti... Dimenticalo. Bob, vedo la tua agonia. Dimmi un file. Apri il file. Voglio che tu te ne vada da quel posto. Apriamo il posto. E se apriamo il... Apriamo il posto. Apriamo il file. E... Ok. Premi... H... 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 Mi ha sgammato in... Mi ha sgammato in bomba. Ma sta mimando qualcosa? E fa... Ah! Ho capito! Ho capito... Ha quattro passi in più. Ho capito. Ho cemato il file. Che l'ha fatto apposta. Non si chiedeva più. Quindi ha voluto trovarci apposta. Maledetta. Torniamo al lavoro. Ok. Allora... Io non ne so nulla. Excel. Excel. No! Incubo Excel. C'è addirittura su questi giochi qui. Non mi abbandonerà mai. Uh... E se spegnessi tutto? Ha quattro passi in più. Facciamo quattro passi in più. E ho fatto quattro passi in più. Vediamo un po' a tutti i nostri amici. Eh? Cosa? Cosa che mi hai detto? Scusa? Tu? Esisti? Esisti? Esisti anche tu? Eh... In che senso? O qua siete tutti uguali? Eh... Hai visto il tuo cugino? Ah... Dietro di te. Ah. Un secondo. Ah, mi sta passando attraverso. Eh... Portami a Burekas dalla cucina e ti aiuterò a scappare. Ah, portami delle Burekas dalla cucina. Andiamo in cucina. Questo posto è una cucina o tutto uguale? Fai qualcuno felice. Ossia... Ho capito. Ah, vandalismo. Adesso arriverà il capo o mi licenziara, scommetto. Questo... Sta per esplode. Sta venuto fuori produzione. O qua sta ancora cucinando? Apri. Ah. Bello il piatto. Molto nutriente e ricco di proteine. E se facessi... Buttiamo una tazza così a caso? Chiudi? Chiudi? No, no, la tazza. Avanti. No, no, no. Chiudi, chiudi, chiudi. Chiudi. Chiudi, chiudi la porta. No. Eh, sì, adesso l'ha chiusa. Mi sa che è intelligente. Non ti fa cucinare la t... Oddio, passa attraverso il muro. Sento il trash fino da qua. Ah, ecco le qua. Ah, ecco le qua le Burekas. Tu te le vuole? Eh, che cavolo. Tieni, tieni. Te le metto qui, così dopo passo e non serve che faccio il giro. Tieni le tue dannate Burekas. Tutte in altro pacchetto siamo... Eh, te l'ho buttata in aria. Ecco, prendi la chiave. Vado in giro a minacciare tutti con una chiave. E io ho una chiave molto tagliente, guardami il computer. Si acquista la porta. È questa, è questa, è questa. Diamo ce ne... Oh, siamo finalmente liberi. Che bello il c... Un secondo, tutto uguale qua. Ah, cavolo. Apri la porta. Siamo in Giappone qui? Sì, siamo decisamente in Giappone. Non ho mai visto robe simili. O in Cina o... Lì. Soprattutto le pietre poligonali che... La geometria fammi un baffo. Addirittura questa è poligonale. La geometria non smetterà mai di tormentarmi. Oh, mi posso sedere. Finalmente. Adesso osserviamo... Quel petalo rosso che sta... Cos'è? È un petalo rosso almeno. E ci addormentiamo. E... Tre passi ancora e tu sarai libero. Lo torniamo su chaturoletta, allora. Ah, ho sentito che la segretaria piacciono gli origami. E... Ma quali sono gli origami? Questi qui, è vero. Prendiamo questo. Che mi sembrava un origami. Mi sta fissando con le corna. Mi sa che sta dicendo qualcosa. Ah, eccola qua la segretaria. E... Che... Che è successo? Che cos... No, cos'è successo? Ah... Ah, è morto il pesce. Lo metto qui per terra, va bene? Perché si è conficcato con la testa per terra? Neanche lui vuole stare in questo gioco. Dimmi. Non capisci che è morto. Puoi trovare uno diverso? Cioè, mi prendiamo un altro pesce. E come lo faccio? Ho un'idea. Andiamo a cercare un pesce origami, magari. Non li ho visti tutti. Qua c'è un coniglio. Qua c'è... Non c'è nessun pesce. Ecco... Ah, sì. Sediamoci. Fold. Ah, ho capito. Siamo riusciti a farne uno. Oh, fighissimo. Siamo riusciti a fare la coppia sputata del pesce che è morto. Bellissimo. Ora, mi dispiace... Questo qua è tuo cugino, lo sai? Salutalo. Eccolo qua il pesce. Eccolo qua. Adesso... Aspè... Ma che... Che... Questo qua è un'inception bella e buona. Andiamo a frugare un po' meglio qui che mi sembra di avere... Ah, non aprire. Ho aperto. E sto minacciando... Sto minacciando con un'altra chiave adesso. Che sia la... Eh va, è la stessa. Che cavolo... Operate... Oh... Crab. E mo? Che cavolo? L'ho poi... Gli ho tirato... Gli ho tirato una... Una levata. No, perché era una levetta. Gli ho tirato una levata. Un passo in più. Un pa... Che cavolo... È successo? Sono spariti tutti. C'è un'area di fogli qua. Soprattutto un'area di fogli. E mo? Questo cos'è cavolo? Capolavoro d'arte moderna? Poligona? Ne spero sia fatto apposta. Sennò veramente io mi incavo. Oh... Adesso ho capito tutto. Libertà? Ah, c'è... No, ma che cavolo. Ma che finale di... No, non è così il finale, vero? È sempre lunedì. È la peggior cosa che possa capitare a tutti noi, vero? È finita così. Cavolo, un finale che... Allora... Non so dire se era quasi ovvio o se mi ha lasciato la mare in bocca. Perché è stato strambo. Cioè... Sapevamo la stessa cosa, però non ci saremmo mai aspettati che fosse quel finale. Detto questo, spero che... Grazie per aver giocato, grazie a voi per aver guardato il video. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto e spero che continuerete a seguire il canale. Ciao a tutti. Ciao a tutti.